Quindi, la situazione invece dei latini e dei peregrini qual era? Allora, la situazione dei peregrini, abbiamo detto, ma forse possiamo farlo anche nel medesimo video, diciamo, che la situazione dei peregrini era quella comunque di soggetti che non potessero compiere inizialmente nessun atto con i cives, nemmeno un emancipazio, però potessero essere destinatari di alcuni diritti. Ad esempio, diciamo che a volte si riconosceva lo iusufrage, cioè a seconda dei periodi magari la Civitas affermava che le persone che si trovavano a transitare nel territorio avevano diritto di voto, quindi appunto iusufrage. Temporaneo, perché poi se si usciva chiaramente dal territorio si perdeva. Oppure lo ius migrandi, ecco, ad alcuni potrebbe essere riconosciuto lo ius migrandi, cioè la possibilità, ad esempio, di risiedere nel territorio e poi magari con il tempo acquistare lo stato Civitatis, chissà, magari attraverso l'emanazione appunto di un atto sovrano da parte della Civitas. C'era, talvolta magari potrebbe essere anche riconosciuto lo ius con nuvi, non so, facendo così, in questo modo, diciamo, le conseguenze potrebbero essere magari che, sì, oltre ad acquistare lo stato Civitatis poi in seguito, che il figlio magari acquistasse lo stato Civitatis. Perché come sappiamo, l'acquisto dello stato Civitatis sarebbe per nascita, però se vi era, diciamo, la costanza del matrimonio. Però i peregrini, diciamo, se parliamo di peregrini, quindi di stranieri, inizialmente erano anche coloro che risiedevano al di là del Tevere, no? Gli stranieri erano appunto coloro che risiedevano al di là del Tevere. Però bisogna, diciamo, distinguere, perché al di là del Tevere, cioè entro il territorio del Lazio, ad esempio, si era latini. Poi c'erano, quindi, come abbiamo detto, diverse categorie di latino e parliamo dopo, però per quanto riguarda i peregrini, diciamo che inizialmente non potevano compiere nemmeno un emancipazzo. Successivamente, dal 242 a.C., con l'emanazione Alexo Gugna, in epoca ancora repubblicana, in pratica fu istituito il Pretor Peregrinus. Il Pretor Peregrinus che compiti aveva? Aveva appunto quelli di, diciamo, inizialmente regolare, diciamo, le controversie tra peregrini e cittadini romani. Quindi diciamo che con le guerre puniche e l'intensificarsi, anche dei traffici commerciali, le esigenze appunto di Roma furono quelle comunque di una città che aveva anche esigenze di porre in essere, di negoziare, insomma, con gli stranieri, no? Di porre in essere comunque attività commerciali, no? Sia con gli stranieri che, diciamo, importare ed esportare anche risorse. E pertanto, diciamo, la nuova esigenza fu quella comunque di regolare questi rapporti. E pertanto, diciamo, con l'istituzione del Pretor Peregrinus ci cercò di sopperire a questa esigenza. Il Pretor Peregrinus aveva pertanto questa competenza e inizialmente diciamo che i peregrini potevano pertanto, diciamo, assumere dei negozi con i cittadini romani sulla base però delle regole dello Ius Gentium, no? Inizialmente. E lo Ius Gentium era un complesso di regole, quasi possiamo considerarle di diritto internazionale, cioè un complesso di regole che erano riconosciute presso tutti i popoli perché erano regole generali considerate appunto giuste. In base allo Ius Gentium in realtà si legittimava anche la schiavitù ed è per questo che poi in epoca successiva a Giustiniano diciamo, nella definizione di diritto naturale diciamo, la definizione di diritto naturale che è basata, diciamo, un diritto pertanto un complesso di regole appunto concettualmente riferibile a quanto doveva corrispondere la giustizia ma però secondo, diciamo, l'acquisizione di principi anche etici e cristiani si fece modo insomma di distaccare poi il concetto di Ius naturale diritto naturale da quello di Ius Gentium però inizialmente lo Ius Gentium era una sorta appunto di complesso di regole appunto generalmente accettate da tutte le comunità e quindi inizialmente i rapporti tra peregrini e romani chiaramente non potranno che essere regolati sulla base delle regole dello Ius Gentium successivamente appunto all'istituzione del pretor peregrinus magistrato e pretori iniziarono ad elaborare appunto queste regole queste regole fondamentali considerando poi anche quelle che potranno essere, diciamo, gli istituti del diritto civile per fare in modo insomma di adattare gli istituti del diritto civile che non potevano essere, diciamo, praticati dai peregrini ma che vi era esigenza insomma per i romani di poter assumere in qualche modo anche con gli stranieri e pertanto insomma vi fu un lavoro di elaborazione dottrinale su quelle che erano appunto le norme sia dello Ius Gentium sia dello Ius Civile per dar vita ad un nuovo complesso normativo così dominato Ius Honorarium che era appunto un diritto proprio degli stranieri cioè dei peregrini un diritto proprio per risolvere, diciamo, più che altro più che degli stranieri per risolvere controverse tra cittadini romani e stranieri quindi sono un po' dilungato in realtà per questa cosa comunque diciamo che con riguardo ai peregrini c'erano anche diverse tipologie di peregrini cioè c'erano i peregrini ad esempio dei ditici che erano quelli la cui comunità era stata sciolta direttamente da Roma ad esempio perché magari era una popolazione conquistata e tuttavia si continuano a risolverle le loro controverse mediante il loro diritto le loro consuetudini e quindi i peregrini ad editici diciamo che non avevano continuavano ad applicare il loro diritto nazionale come se fosse diciamo una consuetudine ma non avevano chiaramente né cittadinanza né altri diritti appunto i peregrini alieni invece erano in una situazione ancora peggiore ancora deteriora rispetto ai peregrini ad editici e quindi c'erano gli stranieri poi ci potrebbero essere anche gli stranieri di popolazione addirittura nemica ci potrebbero essere gli stranieri appunto i peregrini ad editici che erano invece quelle delle popolazioni magari conquistate e magari per loro si potrebbero avere riguardo all'applicazione appunto delle consuetudini proprie loro secondo quello che era appunto un principio di personalità della legge e poi c'erano i peregrini che erano in situazione ancora deteriora comunque abbiamo visto come potessero avere a scuola dei casi alcuni privilegi appunto come gli us migrandi, gli us connubi eccetera cioè più che gli us connubi diciamo sì anche però comunque gli us suffragi e comunque potessero acquistare eventualmente la cittadinanza perfetto di un etto solenne della Civitas e poi diciamo oltre ai peregrini come abbiamo detto c'erano i latini i latini invece diciamo che vedi i latini parliamo a parte grazie a tutti grazie a tutti